Il successo di una squadra è il risultato di una molteplicità di virtù umane e valori spirituali che diventano anche sportivi, l'armonia, la lealtà, la capacità di amicizia e di dialogo, la solidarietà. Così il Papa incontrando i giocatori di Juventus e Milan e i rappresentanti della Lega Nazionale Serie A alla vigilia della partita finale di Coppa Italia che si disputerà all'Olimpico di Roma. Esercitando queste qualità morali, ha aggiunto il Pontefice, voi potete far risaltare ancora di più la vera finalità del mondo dello sport, segnato a volte da fenomeni negativi. Non vengano mai meno quindi tra di voi il gusto della fraternità, il rispetto reciproco, la comprensione e anche il perdono. Fate in modo che l'uomo sia sempre in armonia con l'atleta. Siete campioni nello sport, ma soprattutto campioni nella vita. Esaltate sempre ciò che è veramente buono e bello, mediante una scelta, testimonianza dei valori che devono caratterizzare l'autentico sport. Papa Francesco ha auspicato che il gioco del calcio possa costituire un messaggio positivo per l'intera società. Agli atleti ha poi ricordato l'ammirazione e la simpatia dei tifosi, soprattutto dei giovani verso di loro, e ha chiesto che questo sia da sproni a comportarsi bene sul campo come nella vita, suggerendo che la coscienza di ciascuno brilla di più se illuminata dal rapporto con Dio.